Musica Grazie! 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 Vai, vai! Almeno! Chi resisterà a questo terribile assedio? Da fratelli che eravamo, adesso siamo nemici! Sì! Fratelli contro sorelle! Sì! Cugini contro cognati! Sì! Commercialisti contro avvocati! Sì! Pistagopi contro pisciaroli! Questo già era! E questo sempre sarà! Da questo parte, da questo parte! Anche sul palco si può stare stasera! Anche sul palco! Bene! Allora, bambini, anziani, persone che si muovono, tutti! Tutti possono partecipare al flash mob che stiamo per fare! Ripeto! Specchio! Imitazione! Interpretazione! A presto! 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 Grazie per la prestare! A presto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.